Eccoci, bentrovati in eartforex. Oggi voglio parlare di un argomento molto scottante su cui ho una posizione netta e quindi voglio parlarvene. Si tratta di broker CFD, broker future o comunque fare il trading sui future, fare il trading sui CFD. Se fai il trading sui future sei il professionista, bravo, professionale, bla bla. Se fai CFD sei quello sfigato che vende solo corsi, che non lo fai di professione, bla bla bla. Ecco, questa è un po' la cosa. Allora, io faccio 43 anni, faccio trading da 18, ho usato tutti gli strumenti che bene o male sono utilizzabili, forse tranne le opzioni, anche se qualcosa in opzioni ho fatto, però diciamo che CFD, future, ETF, certificati a leva fissa, certificati a leva variabile, cash azionario, qualsiasi cosa nella mia esperienza di trading l'ho tradata. Io da tantissimi anni, come sapete, uno strumento che utilizzo da sempre, che continuo a utilizzare e utilizzerò è il CFD. Lo posso usare sul Forex, sugli indici, sulle materie prime, sulle azioni, dove voglio. Mi sono sempre trovato bene, non ho mai avuto nessun problema. Ho sempre utilizzato, e non lo nascondo, il broker che sapete che è IG, non mi interessa, faccio pubblicare o no, non mi interessa. E anche il mio partner dà una vita, perché lo faccio da sempre con lui. Il broker è serio, e se il broker è serio, il CFD è uno strumento super versatile, con la frazionabilità del lotto. Quindi per me che uso delle size non fisse, ma utilizzo soprattutto il rischio monetario nei miei trade, per me va benissimo, perché io riesco ad avere il lottaggio, perché ne so, 2.32 lotti. Cioè questa roba qua, quindi questo per me è formidabile, perché io riesco ad avere una gestione del rischio molto molto sana e puntuale, diciamo. Che cosa che non avrei per esempio con i future. Poi sdoganiamo un'altra cosa, non è che siccome ESMA nel 2017, se non erro, aveva imposto ai broker CFD di inserire quell'etichetta che dice quanti trader sono in perdita negli ultimi tre mesi, e i broker future non ce l'hanno, che allora se fate i future sarete profittevoli, se fate i CFD siete degli sfigati perdenti. No, non è così. Se si sa guadagnare con uno strumento, molto probabilmente si riuscirà a guadagnare anche con l'altro strumento. Io vi assicuro che gli strumenti che ho utilizzato, più o meno, sono sempre riuscito a fare benino o bene. Con i future non ero molto abituato quando ho tradato, quindi questi lotti fissi, questi contratti fissi, ho fatto un po' più fatica, ma sapevo dove dover comprare, dove dovevo vendere, sapevo come gestire la posizione, che tipo di rischio prendere, sapevo gestirmi, quindi questo è importante. Lo strumento poi dipende un po' anche da quello che si vuole fare. Io mi trovo molto bene con i CFD, non sto dicendo, eh, future sono un ottimo strumento, per carità, anzi, benvengano, però non è che, quello che voglio dire, che se fai future sei il numero uno, se fai CFD sei il numero zero, ok? No, sono strumenti utilizzabili dal trader, tra l'altro questa è una questione molto italiana, sinceramente. In alcuni paesi, è vero, per esempio negli Stati Uniti non esiste il CFD, ci sono i future, benissimo. In Inghilterra il CFD praticamente viene utilizzato da sempre ed è sdoganatissimo, anzi, probabilmente si utilizza più il CFD che il future, ma cosa vogliamo fare? Nel senso, è sicuramente uno strumento top, è uno strumento top, io lo utilizzo da sempre, non ho mai avuto nessun problema, mai, e sono profittevole. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che siccome il CFD è uno strumento fatto in market making, allora non va bene? No, perché se la controparte è sana e seria non c'è nessun problema. Tra l'altro, oggi ci sono persone, ci sono gente che puttana, diciamo, il CFD, però mette sul palmo di una mano le prop firm, non quelle, le prop, le proprietari trading, ma le prop firm, quelle che vanno adesso, no? Quelle dove tu fai ste challenge, gli dai dei soldi e magari prendi anche dei soldi, non sto dicendo. Però a quel punto le prop firm sono il principale market making, no? E cosa vogliamo dire? Diciamo che i CFD sono la feccia perché è, e poi propagandiamo e pubblicizziamo le prop firm, cioè almeno abbiamo un po' di coerenza. Le prop firm sono il primo modo di market making, la prima modalità di market making che proprio è visibile a occhio nudo, voglio dire, no? Quindi, CFD va benissimo, la controparte deve essere seria, ma i CFD van benissimo, i future van benissimo, le options van benissimo. Gli strumenti, se la controparte è seria, sono tutti ottimi strumenti se volete fare un buon trading. Poi voi dovete imparare a studiare, a prendere le competenze, a capire come si fa trading. Questo è il vero dramma. Non dovete fare, come dire, darvi degli alibi, ah, siccome è, allora sono i CFD, ma cosa cavolo stiamo dicendo? Facciamo ritere se diciamo ste cose. Quindi, CFD tutta la vita per me, Airforex usa i CFD da sempre, 18 anni sui mercati, i CFD li ho usati praticamente quasi da subito. Quindi, io ho fatto tanti anni di trading, tanti anni di bei profitti e devo dire che con i CFD non ho mai avuto nessun problema. Ok? Va bene, io mi scuso per questo video se sono stato un po' pesante, un po' diretto, però a un certo punto bisogna anche che prenda una posizione netta, perché lo voglio fare questo, visto che non sono un novello che fa trading da 3, 4, 5 anni, ragazzi. Lo faccio da tanti più anni, sono quasi 20 e i CFD io li ho sempre utilizzati, sempre bene, non ho mai avuto nessunissimo problema. Ok? Quindi non è che siete perdenti se usate i CFD e siete bravi e profittevoli se usate i future. Va bene? Benissimo, grazie. Allora, prima di parlare ovviamente cercate sempre di essere conoscitori di una determinata dinamica, non perché voi avete iniziato con i CFD e siete stati perdenti all'inizio con i CFD, che i CFD sono uno strumento da perdenti. Se siete perdenti voi, non è che dovrebbero essere perdenti tutti. Ok? Bene, allora io vi ringrazio, vi saluto, ovviamente vi chiedo di lasciare un like. Direi come dice il mio amico zio, ma non lo dico. Lasciate un like, lasciate un dislike, fate quello che volete, iscrivetevi e lasciate un commento. Grazie a tutti, ciao!